Serata noiosa, nulla da vedere in tv, in questi casi ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati sul nostro ventunesimo episodio di Nier Replica. Dunque, io voglio proprio vedere come va avanti la trama, soprattutto dopo la fine del ventesimo strepitoso episodio che ha visto una boss fight pazzesca, un mostro che era veramente troppo più forte di noi e il gioco stesso ci ha portato a, diciamo, vincere per grazia ricevuta, no? Per esigenze di trama, potremmo dire. Dopo la morte del, come si chiama, del tizio, dell'uomo con la borsa rossa, torniamo da Popola per comunicargli l'esito di questa missione. Non è vero. 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 Allora, dobbiamo andare nella... Allora, secondo me... Secondo me, il fedele Cerbero potrebbe essere quel lupo che abbiamo visto cinque anni primi, Capobranco, là che era già fuso con un'ombra, vi ricordate? Potrebbe essere quello, però... Non avanziamo con getture che forse non hanno ancora una risposta. Allora, non dobbiamo salvare, ma dobbiamo andare a vedere, scusatemi, stavo un attimo perdendo, la posta a casa nostra. Allora, ah, c'erano mandato da facciata, dal re di facciata, siete pregati di inviare obiezioni e congratulazioni tramite i canali ufficiali, i sensi della regola, vedete? Regole che passano anche i 700 punti oramai. Accordialmente, l'ufficio reale di matrimonio e altri contatti e obbligazioni giudicamente vincolanti di facciata. Ciao ragazzi, qui era di facciata, per fortuna ha scritto lui dopo. Scusate la formalità dell'invito, sto per sposarmi e voglio tutti a matrimonio. Partite subito. Andiamo a facciata. Allora, vediamo di usare il, come si chiama, il teleport, chiamiamolo così, ma in realtà è il viaggio navale, quindi saliamo su di qua, vediamo chi è il nuovo traghettatore, magari la moglie, eh, che ha preso il posto del marito. No, è un... Allora, pieno settentrionale, vedete che abbiamo, direi decisamente deserto, il punto più vicino per facciata. Poi rientreremo in quell'orribile luogo di facciata, dove ben sapete, non si trova mai la strada, però vabbè, facciamo quello che possiamo. Ok, allora, ci ha portato qua, vedete? Quindi si può navigare anche sulla sabbia, infatti avevo già visto questo punto, adesso vi farò vedere dove si esce, perché non vi ho mai clipato questo luogo. luogo, però siamo in fondo al deserto, come vedete. Là c'è una specie di cimitero, con delle lapidi, c'è un piccolo dialogo, ma due battute tra Wise e Sion, quando, comunque il vostro protagonista, io ho chiamato Sion, come sapete, quando arrivate qua. Ma niente di che, infatti uno ne è ricaricato, ne niente, per chi parla, perché tanto erano due stupidate. Ecco lei. Beh, gli abitanti di facciata mangeranno. E quindi, ragazzi, oggi torniamo a facciata. Ecco, nuove pagine del diario di nostra sorella Iona. Allora, non salveremo, subito qui ci sono missioni extra, come vedete, che poi vedrò di andare a fare. Allora, dobbiamo cercare di raggiungere il palazzo reale. Vado sempre a tentativi quando arrivo a facciata, ragazzi, perché... Ecco qua. Entri. Allora, prima volta che venite qua... Ah, possiamo uscire all'esterno, eccomi. Ah, c'è Fira. 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 ecco ve lo ricordate l'ultimo tempo sarà un matrimonio un po' più movimentato cosa dite l'ultimo tempo 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 veloce per arrivare al castello, cioè veloce, una strada che è abbastanza sicura per arrivare al castello, senza perderci nei fronzoli di facciata. Ok, siamo dentro. Sì, abbiamo anche salvato. Vendetta, quindi. Per quanto non è mai una bella cosa la vendetta... Sì, è vero. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata, antico sovrano. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata. Spada una mano antico sovrano, ragazzi, questo c'era anche il Nier Automata. che ci chiedevamo come potremmo raggiungere, no? Kainé sta sparando al capobranco. Non so se potremmo avere delle perdite per i nostri aliati, ma non credo, anche perché sembra che non stiamo facendo nulla. Occhino... Zalte... Zerga... Siento con che! Sì, è una cosa che fa dopo. Quali i amici per i nostri ognoni vuoi? Per esempio di un'altra cosa, non credere dal palazzo del terno del giro. Per esempio, che si può fare un'altra cosa? Non crederebbe, che si può fare un'altra cosa. Era un'altra cosa! penso che il boss scenderà in battaglia solo una volta che stermineremo il team esatto ecco allora e questo non è come il boss della spiaggia scorsa facciamo la barriera Dai! Perfetto! Vediamo con quale finisher useremo, sempre a mano scura. Perfetto! Ok ragazzi abbiamo ottenuto il frammento di chiave per il fedele Cerbero, quindi il nostro secondo frammento di cinque. C'è un po' di più, ma che non è un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più che, ma che non è un po' di più. Fia no ho coli dattà Littorna o de l'are Ah Datta Dori's Kiorio Kutai tu Richelai Kai'sa no chitta da Kete Taiso to Chittatってるんだ Yare yare Mata o kite ka La no perua Donri Arutero ha Chio Andato Toshio Lo Fia O Sama Svete Mamono Sonsai 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 Ok ragazzi Siamo alla fine Del nostro episodio E quindi Ecco qua Controlliamo se è arrivata una lettera da parte del fratello Min Quindi ragazzi a questo punto io tornerei al mio villaggio Per vedere se ci ha scritto Gideon E vi ricordo se vi è piaciuto questo episodio vi chiedo come sempre di lasciare un like A me è piaciuta tantissimo questa parte del deserto Stanno diventando uno più bello degli altri questi episodi veramente E vi chiedo di iscrivervi al canale Attivando la campanella saprete sempre quando vi metto online un nuovo episodio di Nier Replicant Noi ci vediamo come sempre alla prossima Vi ringrazio di aver visto il video e ciao ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti